Applausi No, 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 ricordavo tutto quanto, infatti questo qua dei Simpson, lo ricordate ma mi sembra qualcosa molto più breve, un'apparizione brevissima, invece il personaggio era carino, era divertente, anche se è un cartone io non sono uno specialista come il mio amico manzotto dei cartoni e ne faccio pochi, devo dire, ne faccio pochi. Però questo qui, me lo ricordo, c'è stato di offente farlo perché era una presa in giro, è stato un compagno di viaggio campionato, insomma. E adesso voglio partire qui per vedere se conosci bene. Ah no. No, non mi stai capendo. Allora, Mike Heider, tu saprai che è il cognome. Sì. Tu sai come era il nome? Allora, ti do quattro possibilità. No, non mi stai capendo, sì. Vuoi l'aiuto a casa? Allora, si chiamava M. No, Angus. Angus. Sì, sì. Allora, invece, qual era il nome originale di Capitano Futuro? Originale, già come se ne? Sì, è vero originale, cioè lui c'ha la F nella cintura, in Italia è il quattro Capitano Futuro. Allora, il nome originale era, secondo te, Futuro, Furious, Freedom o Fast-Word? Forse Freedom. Freedom. Bravo. E' un po' più di vent'anni fa, più di vent'anni fa, quasi trenta, quindi ricordarsi quel periodo è già un grosso sforzo. E tu sai, allora, ormai ai giorni nostri ho, sai che c'è la tecnologia molto attiva e quindi una volta non poteva mettere una persona guardandogli la mano, invece secondo me oggi è facile capire una persona giudicandola dalla suoneria del cellulare che ha. Io ti dico subito che io ho la suoneria di Megalda, quindi la suoneria di Megalda, mi dicevi tu che sono in reagente del cellulare? Io ho due suonerie che sono più recenti, cioè una è la suoneria di Derrick e l'altra è la suoneria di No and Order, che è l'ultima suoneria del cellulare. E quindi la seconda di quello che ti fa fare? Sì, a seconda delle cose che sto facendo in quel momento, scavito la suoneria e la metto sul cellulare. Ok, e dal nome mi sembra di capire che non sei italiano, sei... No, sono di origine spagnola, di padre spagnolo e di padre italiano. Infatti spesso è capitato di tocchiare cose in spagnolo o misto spagnolo o italiano. Sto trappicando di droga? Sì, sì, tra un giulio per esempio, il Tequila Commission parlava un italiano o un misto di frasi, di parole spagnole e mi è toccato per questo motivo, per così tanti altri. Dicevamo che io mi ricordo del mio cassetto di Megalda, ma tu non hai dubbiato, ti trovo, Megalda. Sì, sì, ma l'è accendato. E poi parlavamo della nuova serie con Richard B. Emane, quella che cita non è Simpsons. Staviglia. E tu non le fatti? No, queste sono delle cose che accadono nel mondo del tuo piatto, che come in molti altri mondi, ambienti italiani, è piuttosto anomalo e senza peggio si lo so. Insomma, io non ho paura a dire delle cose. Cioè, mi è stato praticamente, in qualche modo, scettato il personaggio, perché io l'ho accoppiato per quasi 15 anni, insomma, cosa era stato. E quando è arrivata questa serie, io non mi sapevo nulla, mi è stato detto che stava arrivando questa serie, questo Stargate, da alcuni colleghi, mi chiameranno, non c'è problema. Poi gli stovettori hanno già iniziato a dare il tuo piatto. E questo succede, perché da noi ci sono delle società di doppiaggio, alcune delle quali sono molto chiuse, molto protettive del loro ambiente, del loro cittadino interno. E sono delle piccole massonerie, dicono io. E quindi, senza pensarti due volte, hanno affidato il ruolo ad un altro attore interno della società, senza nemmeno chiamarmi a fare un provino, un finto provino, come a volte succede. Cosa in quanto è anche accontentato, perché insomma io non sono un ambizioso in questo senso, non ne sarebbe fregato nulla di non farlo. E mi è disperdito il fatto che mi abbiano totalmente ignorato. Se non mi sono chiamato, insieme ad altri, facendo dei provini pibbi, in base ai quali poi dicono, no, ma sai, il cliente ha detto che non andava bene, hai cambiato la voce, preferiscono un altro, non mi sarebbe tanto bene. E avrei capito, distrucco, ma ci sarei stato. Invece, mi hanno completamente ignorato, hanno affidato la cosa, e poi un pochino mi è disperdito, perché bene o male ci attenzioniamo ad un attore doppiato per tanti anni e diventato, come ripeto, un compagno di strada. Allora, insomma, è una cosa poi di passare. Abbiamo tanti altri ruoli, tante altre parti da fare, che insomma non è vicissima di soli. Comunque, parlando anche con gli altri, sembra in passato che cosa sembravano più facili. Oggi cosa c'è, c'è più concorrenza? Qual è il problema? Sì, non è un fatto di concorrenza. Oggi c'è più superficialità, c'è meno, in fondo, meno professionalità, tranne in quelli che, in qualche modo apparteniamo alla vecchia scuola. Noi siamo stati abituati a lavorare e ad imparare da gente, come abbiamo già detto, come stava detto, come Ceri Arnald, Renato Cominetti, Renzo Balmer, io ho lavorato con lui perché da un po' quando era alla SAS e tanti altri che ero poi previsti. Ed era un lavoro che si faceva con un impegno professionale, con una serietà professionale estrema. Per dire, ne parlavamo oggi, quando si entrava in sala e il tumo dorava tre ore, tre ore al netto, non si usciva dalla sala. Anche se non aveva tre battute, restava tutto il tempo nel sala, perché il tumo durava tre ore al netto. E devo dire che questo era, tra l'altro, un modo per imparare a lavorare in questo mestiere. Questo mestiere è un lavoro artigianale, è un lavoro nel quale più di tutto bisogna essere attori. Se non sei attori, non si può farli. Però è una specializzazione dell'attore, una specializzazione tecnica, che richiede moltissima tecnica. E questa tecnica va acquisita, va imparata, lavorando, facendo e soprattutto ascoltando gli altri. Ora, allora, cominciando questo lavoro, erano insegnanti straordinari, con questi direttori che ho detto, che erano compagni di lavoro, come Gigi Proietti, lo stesso Renzo Palmer, e tanti altri bravissimi, io quando ho cominciato, già lavoravo con l'anni, Michele Palamera, con Alessandro, eccetera, che mi ha insegnato moltissimo. Cioè, io sto a visare, è imparato la tecnica, il modo di usare questo strumento, che è la nostra voce, che è uno strumento che va educato, va conservato, curato, ed editato. È proprio come un violino, va accortato ogni volta e adattato alla sinfonia, alla melodia che bisogna interpretare. Questo si impara. Altrimenti si va nel giro e si fa semplicemente uno speaker, una cosa, non dico adorale, ma comunque abbastanza impersonale, che non è libera, perché sia una vera del personale. Dovrei fare una domanda. Non so se c'è stata fatta prima, perché si è dovuto uscire un secondo. Quindi una persona, noi siamo inesperti, che vuole entrare nel mondo del doppiaggio, esiste una scuola o bisogna entrare a qualcosa di particolare? Esistono, esistono le scuole. Io, oggigiorno, di molte di queste scuole, dico che sono delle fabbriche di diffusione. perché vuoi per le contingenze del momento in cui il lavoro si è ridotto, si è proprio ristretto, quindi ci sono meno possibilità. E chi già lo fa, è ovvio, protegge il suo lavoro ed evita l'ingresso di altri concorrenti. e poi queste scuole di doppiaggio non possono dare, preparare un giovane ad un lavoro, ad una professione come questa, che richiede, come ripeto, come dicevo prima, un'enorme, un'enorme esperienza per acquisirne la tecnica. La tecnica di come si sta a leggere, di come si usa la voce a leggere di fronte al microfono, di come si entra psicologicamente nel personaggio il tempo di prezzi. Perché noi avevamo pochissimo tempo. Una volta, e per i grandi figli, come dicevamo anche Massimo, c'era la possibilità di vederlo, di capire la storia, di capire il personaggio e di varsene un'idea se non altro dell'interiore mentale. Adesso si va in sala, si vede il timonello, bisogna prendere il personaggio e farlo. E i tempi sono difficili. Sicuramente un giovane che fa solo una scuola di copiata, senza lo fatto prima, secondo me, una scuola di teatro, di recitazione, cioè senza essere un attore completo, ha sicuramente meno qualità, meno pubblica possibilità. Può essere un parento naturale, e avere delle dodi naturali di sì, di interpretazione, però quella che è la tecnica la acquisisci con tempo e quella che è la capacità di creare un personaggio se non la acquisisci facendo l'attore, facendo delle esperienze, soprattutto teatrali, in precedenza. quindi prima di essere attori e poi specialitarsi nel doppiatto. Ma c'è una caratteristica particolare? Ad esempio, io non so, sentiamo spesso magari che l'attore o il personaggio di un cartone animato si mette a cantare e ci sono situazioni in cui viene lasciato l'attore originale che canta con la sua voce oppure piuttosto il doppiatore che si mette a cantare. Quindi si mette anche intonati a avere una qualità. Se si ha la qualità, la capacità anche di cantare, di saper cantare bene, meglio. Spesso viene lasciato quello originale perché a volte è una voce o un cantante già conosciuto americano già in originale che è stata data quella voce opposta perché è una voce di successo e quindi se ne è originale è stata messa in un cartone dalla voce di Ray Charles mettersi all'occhia di Ray Charles è una presunzione un po' ognata. Se si tratta di cantare una canzone, una canzonetta o una canzone anche famosa che è successo per fare motivi o farlo su qualche film se sei intonato e puoi seguire la canzone in maniera da interpretarla in maniera originale senza problemi la parola è. Margot per esempio nel film c'erano degli episodi in cui inventava delle canzoni e poi mi sono inventata insieme a casa io perché non facevo le produtture delle sue che erano polli e allora ho fatto delle cose polli in italiano inventato completamente improvvisando tra l'insieme di con me e la notizia è stato molto divertente. Poi stiamo raccomando che te lo rupi dalla seconda serie? sì 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 dalla seconda serie? ormai o hanno continuato il primo? no la prima serie io ero impegnato in un'altra cosa sempre con la Sars della società della società della quale è stato allora e mi pare che la cominciò a farlo medicina la cominciò a farlo medicina poi o lui fu fu l'ottavo su un'altra fine non so se coincise ma più o meno non si trattava dell'avereo si trattava di qualche altra cosa per cui lui non potrebbe più farlo fecero nuovamente dei domini all'interno della Sars e io venne scelto per far una e da loro hanno fatto la cosa e anche i cattiei li riconoscono spesso in giro sì succede 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 spesso beh piacendo è piacendo di fare con i letteri cellulari no mi hanno chiesto di fare delle sedeterie telepodiche per casa personalizzate sì personalizzate mi dice fanno una voce calda fanno una cosa così e lo fatto un certo pagamento erano delle persone degli amici che vogliono avere una segreteria particolare che diventa io per questa e tra radio televisione chiamano spesso come ospiti o non è successo soltanto soltanto magari nel doppianzo solo tanti anni fa quando ero ancora a la sasse facevo una serie che si chiamava quando si chiamano da quando si chiamano una sua pospera quando si chiamano perché io ero il personaggio principale di tutta la prima due tre erate che allora chiamavano nello a mia collega qualche palboghi che faceva la mia fidanzata o qualcosa del genere a Torino a una televisione di riscoli come ospiti a parlare del doppianzo quindi parlando del doppianzo poi ci fece un po' parte qui stasera doppiare una scena di torresiano direttamente in sala a Torino una poche volte qui perlomeno io sono stato invitato come ospite per quel che riguarda questa volta so che i dottori chiedono un po' dici tipo dimmi una frase da MacGyver succede è difficile ma MacGyver è la mia voce io non ho delle frasi da MacGyver MacGyver è un giovanotto normale che parla normalmente che si trova soltanto a vivere delle situazioni particolari nelle quali si comporta la mente attenta che è il senso che le fa bene dei telequine delle cose e con pochi oggetti riesce a sopra tutte le situazioni però non ho una frase svegliata non ho una frase di altri film o telequine che ho fatto che si ripeta o che sia indicativa significativa di quel personaggio allora ti capisco perché io sono fan e collezione in tasca questo ce l'ho anch'io sì 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 lo comprai durante la serie di due gare il poterino svizzero ce l'ho sempre con me in valigia sì 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 è un oggetto sì è un oggetto proprio simbolo di quel periodo di quel personaggio è anche utile cioè lui io sono negato per il bricolaggio e tutte queste cose sono veramente sono negate però è un oggetto che ogni tanto mi ha sentito nelle cose piccole di tutti i giorni è uscito di carriera qualche volta sì va bene e dai per come al solito per i tempi sono stretti se mi piace cosa facciamo 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 che cosa è un peggio dire di ora posso fare la domanda ah sì perché prima non ti ero nessuno no sì forse una domanda che poi ho pensato per lei perché io ho visto Matrix l'uno in Italia o sono andato in Spagna per i mesi e ho visto il tuo in Spagna e l'uno avevo molto apprezzato il due l'ho guardato allucinato proprio ero ero basito da come non corrispondeva la mia visione del film con le parole che sentivo scrivere dalle voci degli attori mi sono sempre chiesto se la scuola italiana del doppiaggio era molto migliore di quella spagnola oppure ero io che sentendo la nonna una lingua madre già ero partito prevenuto questa era la domanda eh perdone lo dico molto di piacere quando io sangue spagnolo mette bene e mi dispiace questa cosa ma in spagna sono veramente libera sono veramente negati fanno un pessimo aria hanno soltanto unito il punto delle voci belle che sono molto rodone cioè pastorose però che spesso scollano col personaggio non c'entrano solamente nulla vuol dire non so chi abbia detto che di un release però sicuramente questa voce è bella è postata ma che non c'entrava niente con lui perché è un mondo che non è chiuso attenzione non è chiuso agli ingressi e all'entrare dall'esterno è facile entrare se si sa lo spagnolo nel mondo del doppiaggio spagnolo e lavorare quindi sono coaglienti hanno uno spirito molto sociale in questo senso però ci sono dei ruoli intoccabili i ruoli intoccabili ci sono quei determinati protagonisti e quelle protagoniste che sono sempre gli stessi sempre gli stessi il processo che lo sia il protagonista è quello un po' un po' ma in maniera molto più esagerata e con aspetti molto più devastanti anzi sicuramente devastanti che non lo erano invece da noi però una volta voglio dire grandi attori come Ciboli e Panicani doppiavano tutto Panicani Ciboli ha doppiato Cionquegne insomma i personaggi di Ciboli erano tantissimi a volte anche non giusti non giusti per questo tipo di voce era straordinario quando per allora a volte magari un attore purtroppo giovane per questo tipo di voce però lo stesso è chiaramente bravo talmente capace che alla fine andrà anche bene in Spagna no in Spagna sbagliano tutte le distituzioni diciamo delle voci le distuzioni delle voci guardo ogni volta sono tornato adesso tre giorni fa da Madrid sono andato a vedere due film non so come si chiama qui è 88 minuti con un'altra cinemata che è un altro è un altro non so anche quello come si chiama qui non dico come si chiama qui è altrimenti sono uscito dal cinema che il film mi sono piaciuto di conti ma il doppiaggio lo faceva vomitare lo so è un è un difetto del cinema spagnolo il doppiaggio è pessimo il nostro non perché lo facciamo noi ma è riconosciuto da tutti come il migliore doppiaggio al mondo il migliore del mondo non solo come coci ma proprio come capacità di interpretare come capacità di adattare come insieme il doppiaggio è come per un direttore soprattutto è come orchestra un'orchestra dei vari strumentisti saperli scegliere saperli scegliere le voci a seconda di non solo del personaggio ma del contrapunto che devono avere tra l'uno e l'altro di musicalità cioè una voce non deve scrivere rispetto agli altri in questa formazione orchestrale che è il film il direttore è come direttore dell'orchestra e gli altri sono strumenti che vanno scelti nel modo giusto e impostati nel modo corale e simponico dell'orchestra di Gesù però non lo sappiamo fare negli altri paesi ma non solo in Spagna io ho visto anche doppiaggi non qui non lo chiamano doppiaggi francesi tedeschi e pessimi veramente pessimi gli americani anche sono pessimi le doppiagge le cose che torniamo sono pessime il nostro miglior racconto e non solo grazie a noi ma sono anche grazie a noi voglio dire che cosa io lo faccio sì allora vorrei sapere siccome c'è stata una protesta da parte di tutti i societari di un piano perché il canale si è rai che ne è sempre sui film stranieri tendono a non far vedere chi doppia il film e poi una domanda gli ultimi crani sono due attori famosi come Barbetti e Rezzini l'anno scorso ma ormai stanno scoprendo i migliori gli attori ovviamente il re che è guardato sì allora la domanda la prima domanda è quella dei titoli i titoli di vota è una cosa per la quale abbiamo anche campattuto a livello di sindacato credo che ci sia un accordo ci siano delle regole delle quali dovrebbero essere tenuti a passare fino alla fine i titoli di vota dei film che sono sicuro ma immagino anche delle serie no no come accade in Italia sostanzialmente c'è il business delle mobilità che è il con delle giornate che incontri non è la prima quindi mentre va in marzo in cui da volte spettamente le televisioni vengono trocate a cinema visto che stanno un po' più attenti se riesce a vedere fino alla fine se rimane in sala e se se lo permettono quelli che saltano se ne vanno prima del tempo riesce a vedere chi ha toccato la società si da poco anche subito di da poco ci sono pazzi per quanto riguarda i due colleghi io oltre a trovare un grossissimo di piacere perché erano due grandi amici i signi ancora più ma di tappetti perché l'ho conosciuto quando facevamo teatro a Prieste erano molto amici tra l'altro mi spiace per molti di voi che forse io non ho trovato di squadra e ero intervista come e quindi dai intervisti ci trovavamo e discutavamo molto sul campionato sulla squadra e mi ha discututo veramente tantissimo quello che tra l'altro era un straordinario collega bravo bravissimo ha fatto tantissimo teatro troppissima radio e straordinario obbiettore Barbetti era uno dei dei mostri sacri insieme a all'occhi a Renauti cioè quelli della vecchia vecchia scuola prima di non quelli che ci hanno insegnato a me a me certamente e per me la voce significa di airport di tanti altri io poi ho avuto il complice anche un po' imbarazzante perché quando è morto sono stato chiamato da una società per fare dei provini quando lui aveva iniziato con una serie che si chiamava Boston League e aveva iniziato a lui un personale fisso hanno fatto dei provini e io vinto questo per cui ho avuto l'uomo di sostituire Barbetti in questa serie e l'ho fatto devo dire col pensiero sempre a lui facendo un'altra cosa perché la mia voce e i suoi di Barbetti sono diversi sono libri però il risultato si è stato molto buono si è stato molto apprezzato per la volta dal cliente e io l'ho dedicato alla sua nonna l'ho fatto soprattutto pensando a lui e alla simpatia e alla giustizia che ci accade è una cosa di cui mi sono adesso comunque ho parlato con i miei colleghi intanto soprattutto con la mazzetta degli anni purtroppo uno si vede cadere al forno degli amici sparire dei colleghi degli amici e questo in qualche modo sicuramente è un po' preoccupante perché ti fa rendere conto che insomma mi calza la signora dietro di te e non puoi non neanche te io spero di capire ancora abbastanza e di continuare la storia penso che sia il nome a tutti quanti il giocchiatore sì però quando cominciano ad essere in due i tuoi tani o a differenza di pochissimi anni che cominciano a scontare che è una cosa che è un po' più preoccupante da tutte le persone che i propri i tuoi tani gli amici c'è certo c'è 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 di esserti che anche degli altri c'è c'è questa sfera di malinconia però insomma è la vita anche questa è una parte della vita è ingelettismo ma prima come non come si non è solo sono lo che mi è con di il è per la c'è che si se il saccarlo, il 12 acco 22-0-11, i saccaridi, l'acido 20, i secondi di succhere, poi un elemento di carbonio, un veloce di un vestito romposo. E poi lo vi erano scattato, che è probabilmente il mio.